Hanno ballato tutti i balli, insomma ci hanno mostrato tutti i balli della loro preparazione adesso è il momento invece torniamo, ve l'avevo detto no? che ci dovevamo far vedere le danze standard e allora tornano i nostri ospiti Vincenzo Chianese e Francesca Pia Pannieri e anche loro chiaramente hanno cambiato abito per esibirsi nelle danze standard e allora gustiamoci questo balzer lento Gira e il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti con la gioia e colore della gente come me Oh mondo, non si è fermato mai un momento la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà Che grazie, insomma questi ballerini scivolano su questa piazza nell'esibirsi e nel fare i passi della balzer lento e sarà ancora più emozionante vederli esibirsi in questo tango non si rende lonto e sarà ancora più emozionante vederli esibirsi in questo tango Lavazio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non siamo ancora a dieci, quindi torneranno ancora una volta e per il nostro piacere di rivederli in pista. Però, dicevo, visto che siete rimasti...